bello amici del tubo quel vostro nicarg siamo rimasti in questo frangente molto tragico visto che la folla in velocità non ci ha risparmiato ci ha ridotto ecco adesso non più perché abbiamo un oggetto curativo anche se ci ha ridotto le nostre scorte di molto siamo rimasti con un uovo e un'erba verde basta proviamo a esplorare un po non si sa mai esploriamo il corpo umano quante cose che impariamo cuori muscoli e polmoni che spettacolo ma niente di qua no ok buongiorno si può è permesso quella roba lì luccica e me piasa ci posso sparare sempre no non me lo segno e va bene va bene perché se qualcosa è sparabile potete notare il puntino del laser se qualcosa non è sparabile non lo potete notare eiii aiai agarrenlo agarrenlo non fare la spia non fare la spia non fare la spia ok non dovevo fare così e qua ci torna utile spazi ristretti molte personcine molto simpatiche Adesso che stumblano Ma dai Che lento che sei Leon Oh Sei lentissimo Leon Sei veramente lentissimo Non c'è un dodge? Non ricordo se c'è fosse un dodge Oppure si fa così Ok no La musichetta di suspense c'è ancora Quindi presumo che ci sia qualche nemico In zona Ecco potessi camminare di lato? No devo ruotare la visuale E poi solamente posso camminare in avanti E' veramente scomodissimo Oh figo Combina Ok Abbiamo un full health A disposizione Io non so come raggiungere Quella roba lì La specie di maschera Fighissima Presumo sia un tesoro Fai fare un salto dietro Magari vedo se Mi sono perso qualcosa Oppure ci sarà una strada Che non conosco Niente No dove era? Presumo che si entri da lì Infatti vedi Questo è È scassabile Come potete vedere Boh Io l'ho rotto Vediamo se La mappa Vediamo un po' la mappa Ci dice qualcosa di utile Dove essere di qua E salto fuori Da quella finestra E mi faccio il giro Ah Bitches Mamma te Oddio Facciamo le cose a modo No no Oddio Non so Non so se sprecarlo o meno L'incendio Vabbè Prendo la granata Dai Per scelta scenografica È molto figo L'ho tirata malissimo Posso essere più incapace Ok stanno venendo a prendermi Oh muoiono Muoiono Che completi idioti Vabbè io sono stato idiota A lanciare la granata Ma loro sono stati video Dite me Se riesco a colpirgli la dinamite Mentre Ancora gente No No Signore Si è baccato Ma che cazzo Vorrei tanto prendere Quei proiettili Però Sanno tanto di trappola Infatti Vadrebbe Disinnescata Facciamo così Una E due La prendiamo Se sapete Se c'è un modo Per disinnescare Le trappole Senza usare Proiettili Fatemelo sapere Oh figo Munizioni da 10 Dovano sempre bene Ok Non so come ha fatto Allisciarmi Perché Ho sentito Che me la tirava Ma dai Perché non posso Tirargli il calcio Guarda che lento Che lentezza Dio Bello Ok Non mi abituerò mai Non mi abituerò mai E poi mai E poi mai E la cosa Sarà tragica Perché Adesso i nemici Sono anche Scarsi Dopodiché Sarà Un dolore Al chilo Oddio Quella finestra là Quella finestra là Quella finestra là No Oddio Stavo perfetto Che simpatico Nikarg Oddio Mi brucerò le mani No Perfetto Niente Qua abbiamo preso tutto Di qua Invece Evitiamo le trappoline E andiamo Beaches Perché entro A calci Perché E più Ah eccola qua La stanza che volevo Maschera con cavità Buongiorno Si può Signori No Ok Di qua Ok Boom Sembra tutto calmo Al momento Specifichiamo Al momento Ecco Ecco Qua posso stare l'angolo Per coprirmi Anche se Non ci sono Di quelli che Lanciano le cose Perfetto Dovrebbe essere morto Morto un par di ciufoli Ok E Andiamo Su No aspetta Giù che c'è Mi conviene Dite Andiamo Ok Ok Una flashbang E dei soldi Oltre ai proiettili Ah Figo Va bene Andiamo Su Ok Signori Miei Siamo arrivati Figo Oggetto D'Alaska Sporco Puzza Anche qui Proprio Un bel Posticino Un bel Posticino Niente Da dire Di qua Invece Ancora Pesetas E di qua Invece Niente Ok Trappole Di qua Trappole Di là Trappole Ovunque Let's go Di qui Niente Andiamo su Sentito Eh no Che roba è Quella Madaglia È una grande sfera Di cristallo Sembra Possa ruotare Ah Puzzles No Da quello che ho capito Bisogna ricomporre Il logo Eccolo qua È stato È stato facile È stato facile Guarda che eleganza C'è la foto del prete Quindi penso sia O la sostanza personale Ed è molto egocentrico Oppure un devoto pazzo Però è molto lussuosa Come cosa Davvero Prendiamo prima qua Che c'è Una chiave E lo stemma E lo stemma è quello Sempre che abbiamo Usato Per Ah nota del comandante Sembra una pagina Di un death note Però rosso Come richiesto Da Lord Sadler Ho la gente in custodia Vivo Perché tenerlo in vita Non ho idea Di quali siano Le sue intenzioni Quindi penso Che stiano parlando Di Luis E Lord Sadler Sarà il cap Quello Quello Il cappuccio Che devo li tenessi separati Non nella stessa stanza Come ha fatto I suoi figli Di chi non conosce No aspetta Allora la gente sono io Si complicerebbe Quindi Luis può Temono Una collaborazione mia Di Luis Quindi penso che lui Sia la persona Di cui ci possiamo fidare Tranquillamente Ok Perfetto 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 Stiamo Stiamo venendo a conoscenza Di cose Ragazzi Le cose Le cose utili Le cose Intricate Interessanti E Si può saltare Fuori da qua Non si può Quindi Questa è l'unica stanza Accessibile Adesso Persone che Parlottano Ho sentito La plaga E smuccio Oddio Oddio Che paura È quello Di Smackdown Versus Raw Mi sta per fare La Chokeslam Eccolo Si Me l'avete Iniettata A voi No Me l'avete Iniettata A voi Ecco Ecco Di ai tuoi abitanti Del villaggio Che non mi devono Rompere la minchia Perché in fondo Sono uno di loro No Sesso sangue Ragazzi Fine del capitolo Come mi è uscita Fine del capitolo Signori Si è finito L'1-2 Ovvio che il successivo Sarà 1-3 Gioco abbastanza Capitano Ovvio E niente Abbiamo finito L'1-2 Continueremo Con l'1-3 Ma nella parte Successiva Signori Grazie ancora Per avermi Seguito E per Starmi seguendo E niente Ci vediamo Alla prossima Ragazzi Mi raccomando Sintonizzatevi Un like E un'iscrizione Mi darebbero Una mano E sarete notificati Ogni volta Che posto qualcosa Link utili Qui sotto In descrizione E niente Tanti buoni saluti Tante cari cose E alla prossima Ciao